La terapia con i bifosfonati oggi è di estrema importanza, però deve essere estremamente accompagnata dall'attenzione del clinico, del medico di medicina generale, dell'odontiatra che devono lavorare in collaborazione affinché questa terapia abbia dei risvolti positivi e vengano minimizzati quelle che sono invece le possibili complicanze nel paziente. La terapia con i bifosfonati, che sono sali minerali che si usano per migliorare lo stato dell'osso, viene effettuata sia in pazienti non oncologici, per esempio nelle donne con osteoporosi post-menopausale, e però viene usata soprattutto in ambito oncologico nei pazienti che hanno malattie metastatiche alle ossa. I bifosfonati in effetti riducono il riassolvimento osseo da parte degli osteoclasti, che sono le cellule che contribuiscono a rimodellare l'osso e riescono a migliorare il quadro osseo e riescono a ridurre soprattutto il rischio di fratture. È stato anche stabilito che i bifosfonati hanno anche un'attività diretta e indiretta antitumorale, quindi non solo migliorano l'osso e riducono il rischio di fratture, però hanno anche un effetto addirittura, combinato alla chemioterapia, combinato alle terapie biologiche, all'area di terapia, di migliorare la sopravvivenza del paziente. Questo è documentato già da diversi studi, semplicemente per quanto riguarda il carcinoma della mammella e il mieloma multiplo. Quello che è importante però è attuare una procedura di sorveglianza del paziente, se possibile già prima di cominciare il trattamento, fare una accurata visita odontoiatrica, preceduta da una ortopanoramica nelle arcate dentarie, da una visita clinica, in modo da individuare se il paziente ha uno stato della cavità orale che lo pone a rischio di avere delle complicanze, in particolare la temibile osteonecrosi della mandibola, che si può verificare dopo alcuni mesi o anche dopo qualche anno dall'inizio della terapia con i difosfonati. Questa complicanza è importante perché espone il paziente a una chirurgia, è una serie di provvedimenti anche abbastanza sgradevoli e a volte non si riesce ad avere un risultato anche soddisfacente dal punto di vista funzionale e dal punto di vista anche estetico. Fatte questi debiti, prese queste precauzioni, in sostanza, la terapia con i difosfonati può tornare molto utile. Ci sono dei difosfonati che possono essere fatti per via orale, però noi oncologi usiamo quasi esclusivamente i difosfonati per via endovenosa, l'osoledronato, il pamidronato sodico in particolare, l'ibantronato, che sono dei farmaci che vengono somministrati periodicamente, mediamente, una volta ogni 28 giorni. Questi farmaci devono essere fatti per via endovenosa in ambiente ospedaliero, in dei hospital, richiedono un controllo preventivo della funzionalità renale e della calcemia perché il controllo della funzionalità renale e della calcemia può contribuire a ridurre i rischi di effetti collaterali a livello renale e soprattutto va accuratamente indagato che il paziente non abbia di base un'ipocalcemia. È importante che questi pazienti, oltre ad un'accurata igiene del cavo orale e una sorveglianza anche successiva periodica da parte dell'odontoiatra, assumono anche un supplemento di vitamina D e di calcio. Questo risulta fondamentale proprio per prevenire gli effetti collaterali, in quanto si è anche visto su vaste popolazioni di pazienti sani e di pazienti con malattia metastatica alle ossa da carcinoma mammario che è molto diffusa fra la popolazione sia sana che fra i malati oncologici lo stato di ipovitaminosi D, che riguarda a volte anche il 70% delle pazienti con carcinoma della mammella. Ed è molto importante correggere queste ipovitaminosi perché può contribuire a ridurre il rischio di ipocalcemia, aumentare il tono muscolare, la forza muscolare e ridurre l'astenia che hanno questi pazienti, migliorare la performance in generale, migliorare la salute dell'osso e la calcificazione dell'osso. Oltre a ciò, il paziente prosegue naturalmente i suoi trattamenti oncologici che ha in corso, oppure il follow-up, se per esempio sta facendo solo terapia ormonale. I diposfonati sono farmaci che si usano anche nel trattamento naturalmente di altre patologie, l'osteoporosi post-menopausale, l'osteoporosi delle donne che stanno facendo terapia con farmaci che danno osteoporosi come alcuni ormoni, gli inibitori dell'aromatasi, il tamoxifene usato nella terapia dell'adjuvante, del carcinoma della mammella in una donna sana, operata, che vuole vedere ridotto il rischio di recidiva. I diposfonati si usano per curare anche l'ipocalcemia, la ipercalcemia, pardon, vengono usati anche in alcune malattie, per esempio nell'artitore reumatoide, che si associa a osteoporosi, vengono usate nel miloma multiplo, pure una neoplasia ematologica molto spesso associata a lesioni osse e osteoporosi, vengono usate anche in alcune malattie come il morbo di Paget e l'osteogenesi imperfetta, che sono malattie, diciamo, metaboliche dell'osso, alcune su base ereditaria, alcune invece acquisite, che possono essere aggiormente curate e hanno trovato un giovamento molto importante in questi ultimi anni dei diposfonati.